Una casa piena di scaravaggi, questo è peggio di una fogna, queste cose non le ho mai viste, blatte, le blatte, capito? L'animale più schifoso che ci sta sulla terra, pieno di scaravaggi, lavorano accolti 15-20, ma non è normale questo. Io chiamo l'asso dei carabinieri. Un audio che si commenta da solo e non è l'unico ricevuto da Tiglio Stefanizzi, proprietario del BNB La Piazzetta, situato al Civico 12 di Piazzetta Santissima Adolorata, nel cuore del centro storico di Lecce. Un centro storico invaso dalle blatte, quelle blatte che al titolare dell'attività ricettiva da giugno ad oggi hanno causato disdetta pioggia e richieste di rimborso, 10 per l'esattezza, tutte documentate, per un importo e un mancato guadagno di oltre 1000 euro, 1100 per l'esattezza. Per me è solo un disastro, poiché sia in casa e sia fuori ho sempre blatte e vari clienti sono andati via per queste blatte. Solo quest'anno ho preso circa 1100 euro, non diciamo gli altri anni. Ora di questa situazione mi sono scocciato. Una situazione insostenibile che va avanti da troppo tempo. La disinfestazione preventiva, stando a quanto afferma l'imprenditore, non è stata mai effettuata. E così arrivano le soluzioni fai da te. Sono anni che mi faccio la disinfestazione da solo, comprando il medicinale e intossicando da solo. Intanto le disdette e le richieste di rimborso continuano ad arrivare, mentre la pazienza diminuisce sempre più. Ora dico basta. Ma intanto adesso blatta.